C'è attesa per l'inizio dei saldi estivi. In Campania si parte il 7 luglio e i consumatori sono pronti a prendere da salto i negozi per cercare l'affare. Ma sarà poi vero? Secondo una stima resa nota dall'ufficio studi di Confcommercio, il tiro estivo dei saldi quest'anno vale complessivamente intorno ai 3,5 miliardi di euro. A fare shopping in Italia, secondo l'Associazione dei Commercianti, saranno 15 milioni e mezzo di famiglie. Scelti col Codacons che in una nota spiega il dato che emerge è una percentuale di scondo medio praticato sulla merce in vendita più elevato rispetto allo scorso anno. Su abbigliamenti e calzature infatti i saldi sono partiti con scondi medi compresi tra il 30 e il 40%, ma ci sono negozi che da subito hanno applicato una politica aggressiva scontando la merce anche del 50% a dimostrazione del fondato timore di un calo delle vendite. Secondo i dati dell'Osservatorio nazionale dei Feder Consumatori, invece, solo il 39,6% delle famiglie pari a 9,7 milioni di nuclei è propensa ad acquistare a saldo con una spesa media di 132 euro a famiglia. L'approccio più diffuso è quello tardivo. I cittadini monitoreranno gli sconti per capire la loro reale convenienza, magari rimandando gli acquisti più in là nella speranza che gli sconti aumentino. Naturalmente valgono sempre le regole già in vigore dagli anni precedenti e c'è che sui cartellini del prezzo dei singoli capi deve essere indicato il prezzo normale di vendita, la percettuale di sconto applicata e il prezzo finale. Dovrà essere anche sempre possibile pagare con carta di credito. Gli articoli in saldo devono essere indicati in modo chiaro e separati da quelli non in promozione. In finale l'articolo difettoso può essere cambiato anche in saldo, meglio provarlo prima però accompagnato ovviamente dallo scontrino fiscale.